Ciao a tutti. Da più di vent'anni la giornata nazionale della colletta alimentare è nel mio cuore, prima come volontario e poi come capo equip con una squadra straordinaria di amici e volontari. Quest'anno per i motivi che ben sappiamo non è possibile contribuire alla giornata nazionale della colletta alimentare in presenza, cioè effettuando da parte nostra gli acquisti di generi alimentari non deperibili, ma in realtà possiamo comunque contribuire acquistando alle casse del supermercato questa card. Trovate un totem con la card in tantissimi supermercati d'Italia convenzionati ed anche in Liguria ed anche nella nostra provincia di Imperia. Questa card si acquista una volta, la si può tenere e strisciare quante volte si desidera per un taglio che va da 2 euro, a 5 euro, a 10 euro. Sarà direttamente la fondazione Banco Alimentare poi a convertire questi denari in cibo. Ecco, ricordiamoci con l'occasione della giornata nazionale della colletta alimentare che viviamo sì di pane e non solo di pane, ma anche di solidarietà a quella vera ed ecco una piccola occasione che aiuta senza dubbio ora che ci troviamo in questi complicati tempi in cui conviviamo con la pandemia, ma anche in ogni momento della nostra vita. Ed allora lo dico ai ragazzi, agli alunni, ai genitori, a tutti gli adulti, il taglio minimo equivale al costo di due caffè ed è veramente un aiuto, una piccola goccia che finisce in un grande mare di aiuto e di umanità. Speriamo di rivederci l'anno prossimo in presenza per la prossima giornata nazionale della colletta alimentare. Diffondete e condividete pure questo mio messaggio con i vostri amici, colleghi e con i vostri cari. Ciao!